Si svolgerà ad Avellino da venerdì 12 a domenica 14 aprile la terza edizione del premio internazionale Carlo Gesualdo Danza. L'evento unico nel suo genere nasce dalla volontà di premiare le eccellenze della danza durante una serata di gala che vede le esibizioni di stelle internazionali intervallate dalle cerimonie di assegnazione dei premi agli ospiti. La danza portata ai massimi livelli in una kermess che vede come protagonisti i suoi maggiori esponenti provenienti da tutto il mondo e che coinvolge giovani danziatori di tutto il territorio nazionale. Sulle tavole del palcoscenico del meraviglioso Carlo Gesualdo di Avellino l'evento prevede un programma ricco di attività come le premiazioni dei personaggi che hanno dato lustro al mondo della danza, la serata di gala con la presenza dei più grandi nomi della danza internazionale, concorso nazionale per gruppi e concorso internazionale per storisti passo a due e passo a tre con una giuria di eccellenza, spettacolo matinee per le scuole, stage e masterclass in palcoscenico con i grandi maestri ospiti del galà e ancora la mostra fotografica Pina viene a ballare con me, personale su Pina Bausk di Francesco Carbone, incontri tematici, presentazioni di un testo, shooting fotografico con le stelle e flash mob, impegno, passione, energia e entusiasmo, tutto questo è Gwendalina Manzi, ideatrice del premio internazionale danza Carlo Gesualdo. Il progetto ideato e fortemente voluto da Gwendalina, direttrice della scuola Esmeralda Danza, all'obiettivo di portare in scena sul palcoscenico del teatro di Avellino, la danza dunque ai massimi livelli. Alla direzione artistica Fabrizio Esposito, danzatore solista e primo ballerino del teatro San Carlo di Napoli, dal 1986 al 2012. Esposito ha calcato i truccoscenici insieme ai più grandi ballerini del mondo come Nuiorev e Bolle, dalla Francia alla Bagnato, oltre a importanti esperienze di direzione artistica come il Napoli Danza Festival e l'Amato International. Ancora il roscigno Danza e l'Open Danza Live.